Signori, se salto il video finisce, ma non in una partita normale, eh no, sarebbe troppo facile. Bensì nella modalità colpo secco, soli contro coppie. Incrociamo le dita e speriamo di vincerla. Allora signori, voglio rendere la challenge ancora più difficile. Ovviamente già non possiamo saltare, già siamo nel colpo secco e siamo da soli contro le coppie. In più, se moriamo, il video finirà, quindi oltre al non saltare, la morte provocherà la fine del video. Quindi avremo solo un tentativo per portarci a casa la vittoria reale, sarà impossibile. Ma noi ci proveremo. E in più, davvero idiota che sono, me ne sto andando nel primo spot. Dai, c'è anche la nebbia, che palle. Vabbè, allora, vedo già un paio di persone. E non sento le ceste. Perfetto, proprio perfetto. Ok, qua 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 qua. Ok, l'arma ce l'abbiamo. Solo una, ma vabbè, ci si accontenta. Lì c'è un tipo. Ok, il primo l'abbiamo andato a dormire. In casa ne abbiamo un altro. Però c'è il caccia, quindi siamo un po' svantaggiati. Ho sentito che c'è il caccia. E il secondo a casa. Dai che non c'è visto, non c'è visto. Ok, forse ci ha visto. Allora, le armi le abbiamo cariche, sì. Finirà in tragedia, me lo sento. Già non possiamo saltare. Ora ad uscire sarà un po' panico. No, 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 no. Ci sta piccolando questo. Via, via, via. Che no, scopo. Vieni, cosa sto facendo? No. No, 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 no.